La raccolta differenziata porta a porta arriva anche in Borgo Ticino, forte degli ottimi risultati ottenuti da luglio ad oggi nel centro storico. Dopo sei incontri serali che hanno illustrato i cittadini e le modalità della raccolta, da domenica 18 marzo a venerdì 6 aprile, gli abitanti del quartiere Borgo Ticino potranno ritirare gratuitamente il kit per la raccolta, presso il coltire Ex Barattore in via di Mille numero 130. I kit verranno distribuiti tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il sabato e i giorni festivi dalle 10 alle 18. Dopo le assemblee informative sulla raccolta differenziata parte anche in Borgo Ticino la distribuzione del kit operativo. Marco Galandra, assessore, come procede? Mi sembra che proceda molto bene la distribuzione, c'è stata una grande risposta da parte degli abitanti del borgo. Sono circa 3.000 i residenti in questa parte della città e fino ad ora abbiamo distribuito circa 1.000 kit. Quindi la risposta c'è, ovviamente la gente è molto interessata a ritirare i kit e a farsi spiegare ancora una volta come funziona la differenziata. Credo che anche in questa parte della città la differenziata sarà un successo e funzionerà bene. Dopo il centro storico la raccolta differenziata arriva anche in Borgo Ticino grazie a una stretta sinergia tra Comune e SM. Sì, SM e Comune hanno sempre collaborato fin dall'inizio per questa iniziativa della differenziata, ci teniamo sempre in contatto. L'amministrazione comunale ed SM sono stati anche presenti alle riunioni illustrative ai cittadini su come funziona appunto la differenziata e comunque c'è un supporto continuo tra le due istituzioni. Credo che sia una collaborazione che funziona benissimo. Grazie a tutti.